I vampiri hanno una storia antica e molto radicata nella cultura europea. Sono una presenza silenziosa, ma costante, nel folclore popolare di tutto il continente. Le aree nelle quali si riscontra maggiormente la presenza di tradizioni storiche sul vampirismo sono quelle dell'Europa centrale e orientale, i Balcani, la Grecia e i territori interni delle attuali Ungheria e Romania. In particolare una regione della Romania, la Transilvania, è nota come la patria dei vampiri moderni, tra cui Dracula. La Transilvania, che in base all'etimologia è la terra oltre la foresta, fu raccontata da una viaggiatrice inglese di nome Emily Gerard in un libro di viaggi molto dettagliato pubblicato nel 1888 che comprendeva notizie sui vampiri e sui metodi per sconfiggerli. Bram Stoker lesse i leso conti e le riflessioni della Gerard e immaginò il vampiro di cui tutti noi abbiamo sentito parlare. Ma addestare davvero l'interesse di linguisti e antropologi è stato, ed è tuttora, il nome stesso vampiro, che ha un'origine misteriosa. Secondo un primo gruppo di linguisti che fanno capo alla scuola austriaca, vampiro e i suoi sinonimi russo e ucraino upir e polacco upior sarebbero derivati dalla parola turca uber, che significa strega, ed utilizzati sin dall'undicesimo secolo per indicare il vampiro. Una seconda schiera di autori collega il nome ad un antico verbo greco, che significa bere, una terza posizione, che oggi è la più accreditata, associa etimologicamente il nome vampiro al serbo Bamiup e al successivo vampir.